Ciao amici, sono Simone. Benvenuti al nostro canale televisivo Happy Life. Su questo canale le notizie vengono trasmesse contemporaneamente dai nostri giornalisti in Italia. Buffer Acellino, Loredana Lecciso tradisce a Bano, la confessione che sconvolge i fan. Mi dispiace, è stato malissimo. Ecco cos'è successo. Loredana Lecciso si è sfogata nel corso di un'intervista Grand Hotel sulla vita, che ha dovuto condurre insieme ad Albano e la sua prima famiglia, quella formata con Romina Power. Possiamo solo immaginare quello che deve aver subito la nuova donna del cantante pugliese. Nonostante il loro amore, sia nato ormai dieci anni fa, sono in tantissimi, quelli che desiderano un ritorno di fiamma della coppia di cantanti più amati e di scusi d'Italia, che han fatto sognare con la loro storia, per poi lasciarsi nella tragedia. Il loro matrimonio, infatti, non ha resistito alla perdita della primogenita Elenia in circostanze misteriose. I giornali sono tutti per la coppia Albano-Romina e di sicuro hanno aggiunto del pepe questo triangolo amoroso. Una famiglia allargata piena di pettegolezzi, frecciatine, inviti mancati, dispetti, senza considerare che anche la Lecciso è reduce di un altro matrimonio, quello con Fabio Cazzato, proprietario di alcune tv locali pugliesi. Proprio con lui Loredana ha iniziato la sua carriera di giornalista e conduttrice, prima di diventare famosa prima in coppia con la sorella, poi per la sua storia d'amore con Albano, chiacchieratissima sin dal principio e sempre al centro dei pettegolezzi. Riguardo questa famiglia allargata, Loredana Lecciso ha detto, io ho costruito una bella famiglia allargata assieme ad Albano, però devo essere molto sincera, provengo da una famiglia tradizionale e augurerei a mia figlia una famiglia tradizionale. Lo so che è anacronistico dire queste cose nel 2020, però avendo vissuto entrambe le dimensioni la famiglia tradizionale non ha prezzo. L'attuale compagna del cantante pugliese ha ammesso quindi le difficoltà nel gestire il rapporto tra Albano, Romina Power e i figli di questo primo matrimonio. Romina e Albano nell'ultimo periodo sono anche tornati a cantare insieme. In una recente intervista Loredana aveva chiesto a Romina di fare un passo indietro. Le ex mogli dovrebbero fare un passo indietro a ridimensionarsi, Romino se n'è andata e lo ha lasciato con gli psicofarmaci. E dai! Di che stiamo a parlare? Adesso è troppo semplice, troppo facile, mettiamoci una mano sulla coscienza. Allora anche io posso lasciarlo e tornare dopo 15 anni e vedere se posso riprendermelo. Cara Romina, mettiti una mano sulla coscienza, mettitela pure tu. Un colpo basso però questo anche ad Albano. Il parlare della sua vita private è anche che avesse dovuto assumere psicofarmici più un tradimento nei confronti del compagno, che un attacco alla sua ex moglie. Mentre l'amore tra Albano e Loredana Lecciso è rinato nell'ultimo anno e si è consolidato durante il primo lockdown, che la coppia ha passato insieme nella tenuta di Cellino San Marco. In quel periodo anche Romina era in Puglia, e ha deciso di riprendere il rapporto lavorativo con Albano ma non quello. Personale con la sua nuova compagna, nonostante Loredana, abbia tentato più volte un approccio. Non solo, anche la terza figlia nata dal primo matrimonio di Albano, Christelle Carrisi, non sembra apprezzare la donna, che ha creato una nuova famiglia insieme al padre. La giovane donna infatti non ha invitato la matrigna al suo matrimonio con il milionario Davor Luxic. Mentre non ha avuto problemi ad invitare Brigitta, la figlia che Loredana Lecciso ha avuto dall'ex marito Fabio Cazzato. Ricordiamo che Albano ha ben sei figli. Ilemia, Iari, Christelle e Romina dal primo matrimonio con Romina Power. Yasmina Albano Junior dalla compagna Loredana Lecciso. Poi c'è Brigitta che è la figlia del primo matrimonio di Loredana Lecciso con Fabio Cazzato. Insomma, una famiglia davvero numerosa e, secondo l'Alecciso, spesso ingombrante. 2. GF Vip, Cristiano Malgioglio sbotta contro Maria Teresa Ruta. Sembri pazza. Cristiano Malgioglio riprende Maria Teresa Ruta. Senza ombra di dubbio Maria Teresa Ruta una delle protagoniste assolute di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Anche se il pubblico sa casa e gran parte degli inquilini delle reality show di Canale 5 la amano molto per la sua simpatia, spesso in casa malumore a causa della sua particolare risata. Qualche ora fa, infatti, a riprendere la madre di Gwenda Goria ci ha pensato l'ultimo arrivato Cristiano Malgioglio. Il paroliere siciliano si è arrabbiato con la nota conduttrice dicendole davanti a tutti di non condividere certi atteggiamenti che ha nell'appartamento più spiato d'Italia. In pratica, il caro amico di Barbara D'Urso le ha fatto capire di non gradire la sua stravaganza. Ridi, ridi, parli di tutto. Non posso fare una colazione tranquillo, divento isterico. Il cantautore siciliano non sopporta la risata della conduttrice. Chi segue il grande fratello Vipo Cinque sin dall'inizio sa perfettamente che Maria Teresa Ruta riesce ad animare le giornate dei coinquilini. Grazie a Di Balli e soprattutto la sua famosa risata che spesso porta gli altri a sorridere con lei. Di recente, però, Cristiano Malgioglio si è mostrato abbastanza infastidito dal comportamento dell'ex moglie di Amedeo Goria. Il parogliere catanese, infatti, si è rivolto alla diretta interessata con la seguente domanda. Perché parli in continuazione? A questo punto il 60 anni in modo scherzoso, ha mosso una critica nei confronti della nota conduttrice. Sembri un 78 giri, come un disco che mi regalò mio padre che si bloccava sempre. Cristiano Malgioglio Bacchetta Maria Teresa Ruta Ma è lo sfogo di Cristiano Malgioglio al grande fratello Vipo Cinque contro Maria Teresa Ruta non è terminato qui. Infatti, quando quest'ultima non ha replicato perché non è scoppiata a ridere? Il parogliere catanese oltre a ribadirle che dovrebbe parlare di meno ha detto anche, sembri una pazza, sembri il fantasma dell'opera. In conclusione l'inquilina della casa più spiata d'Italia si è scambiata un abbraccio affettuoso con il 60enne. Inoltre, la donna gli ha promesso che da ora in avanti metterà in pratica il suo consiglio. Ci riuscirà? Subito dopo il cant'autore Siculo ha parlato della sua vita privata e per quale ragione non festeggia il Santo Natale e non mangia il panettone da diversi anni. Grazie a tutti e se vi piace il nostro canale lasciate qualche commento al di sotto.